Diciamo, rassicurazioni in fronte appunto della finanza locale, anche in vista del bilancio che si va... Allora, noi abbiamo scadenze importanti nei prossimi giorni. Il 21 novembre abbiamo la decisione della Corte dei Conti. Tra il 20 e il 22 novembre approveremo in giunta le due delibere, più altre delibere collegate, sul nuovo piano di riequilibrio che dobbiamo presentare e le correzioni all'equilibrio così come chiestoci dalla Corte dei Conti. 28 e 29 novembre andremo in Consiglio Comunale, quindi noi dobbiamo essere pronti a tutti gli scenari. Vediamo che cosa interviene in questi giorni da parte del Governo. Penso da qua al 30 novembre è difficile che possa intervenire qualcosa. Leggi e bilancio sarà approvata verosimilmente tra Natale e Capodanno. Sicuramente avremo la decisione della Corte, quindi noi ci prepariamo alla busta numero A, alla busta numero B e alla busta numero C. Cioè nel senso abbiamo uno scenario completo. L'unica cosa che posso dire, rassicurando tutte le persone che ogni tanto scommettono sulla nostra fine anticipata, è che noi non solo approveremo la manovra di bilancio in giunta e la approveremo anche in Consiglio Comunale. Le interlocuzioni che invece ho avuto oggi con componenti del Governo mi hanno molto soddisfatto perché sto vedendo come si sta consolidando un rapporto di assoluto rispetto e leale cooperazione istituzionale tra il Sindaco di Napoli, la città di Napoli, la nostra amministrazione e componenti importanti del Governo della Repubblica Italiana. In questo caso gli incontri di oggi erano finalizzati al rapporto tra Governo e enti locali, tra Governo e città di Napoli, tra Governo e città che si trovano in situazioni particolari in cui c'è in atto un risanamento finanziario. Non è solo Napoli anche qui, ma sono tantissime città anche del nord, oltre che del mezzogiorno e anche del centro e ho ragione di ritenere che nella manovra di bilancio a fine anno ci saranno rispetto al passato dei segnali significativi. Se questo accadrà io credo che potremmo dire che con il 2019 si apre una stagione di svolta da questo punto di vista nei rapporti tra gli enti locali e il Governo.